L'enciclopedia di pesca dalla barca aggiunge tre nuovi DVD sui nodi e i sistemi di collegamento. Capitano Rotondaro, facendo uso di un dinamometro ufficiale, ha voluto sfatare tutti i luoghi comuni sui carichi di rottura dei nodi. Tutti i nodi nella pesca e non solo, rappresenta un lavoro propedeutico a tutte le tecniche di pesca. Prenotatelo subito al prezzo di 39,90 euro spese di spedizione comprese, chiamando i numeri in sovraimpressione. Finalmente, saprete tutta la verità sui nodi con maggior tenuta per tutte le tecniche di pesca. Dal surfcasting alla canna d'arriva, dalla traina al big game, per le acque interne e non solo. Per le grandi prede, tonni giganti e pesci spada, vengono realizzati anche il wind on e tutti i più importanti nodi con due diametri di filo, uno sottile e uno più importante, e quindi testati al dinamometro. Grandi sorprese ai test sui nodi. Nel prosieguo, Capitano Rotondaro illustrerà i sorprendenti risultati dell'utilizzo di un nuovo sistema saldante americano, quindi senza nodo, che ha già potuto testare sia nel vertical jigging che sui campi di gara e con libraggi sia sottili che grandi. Con questo sistema saldante sarà possibile collegare due fili fra di loro con una semplice operazione, lasciando inalterato il loro carico di rottura. Insomma, grandi novità per tutti, neofiti e nonna. Un'opera da non perdere. Nei DVD i nodi vengono divisi per capitoli e sarà possibile visionare anche le singole tipologie. Nel terzo DVD invece, molto spazio all'innovativo sistema saldante. Prenota subito i tre DVD a 39,90 euro, spese di spedizione comprese, e avrai finito di avere rotture sui nodi, anche con le grandi prede.